Buongiorno, avevamo già parlato dei destinatari, dei popoli di redazione, dell'epoca di redazione ma lasciamo lo schema della lettera un po' per dopo perché è abbastanza complesso e diciamo sul contenuto e la trasmissione, il testo è la lettera più lunga tra le lettere di Paolo è quella con il vocabolario più ampio, mentre il vocabolario di Paolo è piuttosto ripetitivo ma normalmente sono sempre gli stessi termini, nella lettera ai romani la terminologia si abbia di molto è lunga circa 31 pagine nella lezione greca del testo critico Neslala, 1094 parole ed è contenuta dalle principali fonti manoscritte dal punto di vista della mitica testuale, cioè appunto delle differenze tra i diversi manoscritti i capitoli che vanno dal 14 fino al 16 sono quelli un po' più problematici perché secondo alcuni studiosi la fine originale della lettera ai romani era il capitolo 16 o comunque con la sezione 14-16 e quindi tutto quello che avviene dopo sarebbe un po' quasi una punta però sono solle supposizioni per cui secondo alcuni di questi studiosi il testo terminerebbe al versetto 23 del capitolo 14 e il resto sono frammenti provenienti da altre lettere elaborate e messi in coppi citati però non è neanche una corrente maggioritaria per gli studi, sono questioni molto complesse e addentriamoci nell'analisi del testo allora la lettera inizia con Paolo che nomina a se stesso e si introduce in maniera piuttosto dettagliata i primi sette rezzetti del capitolo 1 e poi si conclude con un augurio di grazia e ringraziamenti come abbastanza ovvio leggiamo l'innuncio alla presentazione quindi i primi sette versetti Paolo, servo di Cristo, Gesù, apposto per chiamata scelto per annunciare il Vangelo di Dio che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture e che riguarda il figlio suo nato dal semi di Davide secondo la carne costituito figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità in virtù della resurrezione dei morti Gesù Cristo, nostro Signore per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli per suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti a gloria del suo nome e tra queste siete anche voi chiamati da Gesù Cristo a tutti quelli che sono a Roma amati da Dio e santi per chiamata grazie a voi e pace a tutti quelli che sono a Roma amati da Dio e santi per chiamata grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo e poi inizia con il desiderio di Paolo riguardante la visita a Roma e poi la raccomandazione dell'Apostolo arriviamo fino al versetto 15 anzitutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi perché della vostra fede si parla nel mondo intero miei testimoni Dio al quale rendo curto nel mio spirito annunciando il Vangelo del Figlio Suo come io continuamente faccia memoria di voi chiedendo sempre nelle mie preghiere che in qualche modo un giorno per volontà di Dio io abbia l'opportunità di venire da voi desidero infatti ardentemente vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale perché ne siate fortificati o meglio per essere in mezzo a voi comportato mediante la fede che abbiamo in comune voi e io non voglio che ignoriate fratelli che più volte mi sono impedito per raccogliere qualche frutto anche tra voi come tra le altre nazioni sono in debito verso i greci come verso i barbari verso i sapienti come verso gli ignoranti sogno quindi sono quindi pronto per quanto si è in me ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma quindi ecco qui c'è il desiderio di questo viaggio a Roma che poi nella conclusione vedremo altri tre sotto desideri cioè Roma come tappa verso l'estremo occidente che era la Spagna la penisola Spagna è una parola fuori luogo per letto diciamo la penisola eberica Spagna e Portogallo insieme poi la raccolta di una colletta da portare a Gerusalemme però questo lo espliciterà al contatto alla fine della lette e dal versetto 16 del capitolo 1 fino poi al versetto 36 del capitolo 11 una sezione molto lunga sono dieci capitoli inizia la presentazione dell'argomento teologico perché la caratteristica della lettera romana è proprio questa è il primo dal versetto 16 del capitolo 1 al versetto 36 del capitolo 11 quindi dall'1 all'11 da 1 a 16 11 a 36 è un grande trattato teologico dove l'argomento teologico viene strutturato su due livelli è molto intrecciato non vi chiederò la struttura della lettera romana adesso proviamo semplicemente a delinearla una spiegazione in due parti sulla natura della condizione umana che potremmo definire una natura segnata dal peccato in cui il peccato non riguarda semplicemente la condizione umana ma tutto il cosmo quindi una sorta di afflizione da parte del peccato che riguarda l'intero cosmo e la natura umana poi parla della condizione attuale dell'uomo e della condizione finale e della nuova condizione dei credenti in Cristo in virtù dello stato di fede la fede porta da venire a Cristo e questa adesione a Cristo per fede genera una nuova condizione intermedia fra quella iniziale segnata dal peccato e quella finale che è quella della redenzione definitiva c'è un piccolo inno di otto versetti al capitolo 8 dal 31 al 39 che fa un'ulteriore spiegazione al tema poi finito il capitolo 11 i versetti i capitoli dal 12 al 15 sono come una sorta di esortazione cioè le implicazioni potremmo dire etiche morali della vita nuova in Cristo c'è un versetto di riassunto che è al versetto 30 del capitolo 15 e poi c'è una lunga conclusione che è confusa e ridondante sapete anche perché ve l'ho accennato prima perché dal punto di vista della trasmissione dei testi ecco l'ultima parte forse è quella che è più una cozzaglia di testi provenienti da altre lettere un argomento molto complesso è terminata questo schema di massima della lettera quindi parla della condizione umana segnata dal peccato come se ne esce in virtù della fede in Cristo contrariamente a quella che è ovviamente la dottrina secondo cui se ne esce l'osservanza dei comandamenti e delle leggi però se uno chiedesse qual è il vero argomento della lettera ai romani di che parla e qui gli studiosi sono sono un po' sbizzarditi in grosso modo non ci sono differenze grandissime però ognuno porta un po' la sua specificità case che è uno studioso tedesco nel 1980 ha pubblicato un saggio in cui definiva il tema centrale della lettera ai romani la giustizia di Dio uno studioso molto più antico che era il Wilkins che fra il 19 scusa il nome antico precedente dal 1978 al 1982 parla del Vangelo nel suo contenuto centrale cioè la giustizia di Dio per ogni persona che ha fede quindi rispetto a case ma vedete è un po' più specifico la giustizia di Dio rispetto ad ogni persona che ha fede 1988 un altro grande studioso della lettera ai romani Dun con due anni parla della tensione tra greci ed ebrei che Paolo ha sperimentato di persona potremmo dire tensione tra pagani diventati cristiani e cristiani provenienti dall'ebraismo come vero motivo della lettera per cui il tema della legge è il secondo grande argomento che attraversa la lettera poi ci spostiamo in tempi ancora più recenti Fitzmaier l'altro grande eseggete nel 1993 dice che l'argomento della lettera ai romani lo troviamo ai versetti 16 17 del capitolo 1 li leggiamo perché secondo Fitzmaier quello è l'argomento della lettera ai romani che viene presentato proprio in esergo della lettera capitolo 1 versetti 16 17 io infatti non mi vergogno del Vangelo perché potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede del giudeo prima come nel greco in esso infatti si rivela la giustizia di Dio da fede a fede come sta dicendo il giusto per fede vivrà infatti l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni ingiustizia e di uomini che soffrono la verità nell'ingiustizia 16 17 il termine è sempre quello giustizia uomo fede la trilogia rimane sempre vera 1892 1892 1892 1993 così trovate il rischio bene scusate 1892 e qui ci scrivo 1 16 17 così vi ricordate proprio a suo modo ruotano sempre tutti lì attorno 2003 l'ose tutti i tedeschi ovviamente perché l'unico italiano che ha scritto in tempi recenti una cosa accettabile sulla lettere romana e poi è un filosofo a Gamben non so se lo conoscete no è un filosofo contemporane lui ha insegnato allora la New York University filosofia insegnava italiano tra l'altro è stato famoso perché quando dopo l'11 settembre a Gamben dopo l'11 settembre sono stati introdotti i criteri di sicurezza per viaggiare negli Stati Uniti lui ha rinunciato a tutti gli incarichi e non ha voluto più lavorare negli Stati Uniti e poi ha scritto nel 2000 questo commento alla lettera ai Romani fatto da un filosofo dopo vi dico anche il titolo allora l'ose definisce l'argomento prova del Vangelo riguardando all'attività missionaria precedente e spiegando ciò che è l'essenziale per il suo futuro servizio allo storico oppure un vero e proprio riassunto del Vangelo però in sintesi qual è il riassunto del Vangelo? ci si salva per fede e non per l'osservanza della legge vedete il mio dopo dà una sottolineatura diversa l'ultimo nel 2007 giu cioè Paolo progettando la missione questo è l'ose la missione del 2003 verso la peninsola iberica comunica ai Romani ma qual è l'essenziale della fede dopo tutti questi anni di evangelizzazione e il messaggio ovviamente già noi siamo abbastanza chiamagliari è questo grosso cavallo di battaglia del pensiero di Paolo dove però la legge notate bene non viene buttata via completamente perché poi lui nell'ultima parte della lettera l'avevo già accennato riprende qual è il valore della legge per un cristiano essenzialmente lo vedremo lo riassumerà del comandamento dell'amore cioè la legge è rilenta alla luce del comandamento dell'amore che è un aspetto che a volte si dimentica perché uno legge solo la prima parte magari della lettera ai Romani invece dopo Paolo la riprende i campi semantici qui sarebbe anche interessante non vediamo le ricorvenze però si può cancellare qualcosa la prima parola greca che ricorre più spesso è nomos qualcuno di voi sa che cosa significa la legge nomos la legge dei luoghi sarebbe però quello è nomos scusate nome invece questo è nomos quello è il nome del luogo toponomastica stiamo stiamo adesso vogliamo che mi viene in mente qualche parola in italiano che comincia con no si romo anche anche la parte di due fuori ma adesso mi viene in mente niente ma dopo vediamo secondo grande campo semantico avartia non che mi dobbiate ricordare ma è peccato il terzo è la pistis questa proprio così no che è la pistis fede uno già guardando i campi semantici trova qual è il senso della lettera l'altra è una parola difficile ma di cagliosine giustizia dicaglios significa giusto no adichia di giustizia di cagliosine la giustizia o a me sarebbe giustificazione perché giustizia e poi l'altro grande campo semantico questo nome lo spettereste è etnos che significa popolo perché ve lo dico perché nella prima parte della lettera Paolo parlerà del popolo ebraico degli altri popoli e in parte dei cristiani come se fosse un nuovo popolo poi altri due degli ultimi due sono l'ultimo lo conoscete antropos che significa uomo e l'ultimo e l'ultimo sarx carne 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 il virus sarx sarx non quella s ma quella x c'è alcuni versetti che tipo del vangelo vangelo logos sarx e geneto il verbo si è fatto carne di di cagliusine è la giustizia giustificazione arriva a nomos legge amartia peccato pistis fede di cagliusine giustizia giustificazione etnos popolo antropos uomo sarx carne e questo se voi notate è proprio il lessico teologico fondamentale del pensiero di san paolo perché qui dentro c'è c'è tutto legge peccato fede giustificazione popolo uomo carne perché a volte è utile fare queste ricerche di per sé anche semplici oggi il computer si fa in attimo qual è la parola più ricorrente della lettera ai umani e uno poi scopre che le parole più ricorrenti sono proprio queste qui il genere letterario qui entriamo in un argomento molto interessante perché la lettera ai umani è diversa rispetto a tutte le altre lettere che abbiamo ascoltato letto finora mentre grossomodo le altre lettere erano lettere che riguardavano la comunicazione fra paolo e una comunità potremmo definire le lettere che riguardavano la vita privata o della comunità ma sempre appartenevano al genere lettera corrispondenza la lettera ai romani non è un testo di corrispondenza fra due persone della fisica ma la possiamo definire una lettera autoriale che cos'è una lettera autoriale in cui è una lettera che diventa un'opera quasi letterale tipo che so di Seneca lettere a lucidio qualcosa che avete presente un'altra bellissima lettura che sarebbe da fare lettere a lucidio Seneca un'opera filosofica molto semplice in cui chi scrive magari non lo fa semplicemente con l'intenzione di scrivere una persona ma usa la stratagemma letterario della lettera che qui però è anche reale mentre in altri contesti è fittizio non c'è la vera necessità di comunicare qualcosa a qualcuno ma la lettera diventa lo strumento la letterario e perché vi ho parlato di lettera autoriale perché la lettera ai romani diventerà quasi un modello di un genere letterario che nasce con la lettera ai romani in ambito cristiano in tanti inizieranno a scrivere lettere di contenuto teologico sulla falsa riga della lettera romana non per l'impellente necessità di comunicare qualcuno qualcosa a qualcuno come magari avveniva nelle altre lettere c'è un problema in quella comunità io ho bisogno immediato di risolverlo e comunicare no ma la lettera diventa la cornice lo strumento che permette di operare un'elaborazione teologica approfondita che è strutturata in maniera complessa in questo la lettera ai romani è diversa rispetto a tutte le altre lettere scusa quale hai detto prima lettere morali a lucidio lettere non morali non l'hai trovato scritto così però in libreria diciamo lettere a lucidio lettere lettere morali a lucidio sempre c'è C'è che è molto molto bello una lettura da meditare era tendenzialmente la lucidia flerica sì sì filosoficamente vicino a ah c'è come su internet sì penso che c'è anche online se proprio non c'è più il diritto tutto tutto è chiuso le traduzioni sì quindi diventerà da lì davanti il modello di un genere letterario che nasce proprio con la lettera ai romani questo la rende ancora particolarmente importante perché i padri della chiesa cominceranno a scrivere lettere in cui non c'è l'esigenza di comunicare qualcosa a qualcuno ma la lettera diventa la scusa per affrontare un tema teologico questo è proprio detto nel modo più semplice possibile in senso stretto qualcuno ha finito un genus epidicticum un genere epidictico o demonstrativo cioè una dimostrazione articolata fatta dentro la cornice di una lettera una dimostrazione che probabilmente però era un argomento dibattuto della comunità perché comunque abbiamo già visto che ci eravano contrasti non piccoli anche fra il diaposto allora la genesi del testo per delineare un po' il contesto della comunità di Roma come primo destinatario da un unico di questa lettera ovviamente perché poi era un testo che è nato con l'idea non scrivo una lettera ai Romani ma scrivo un testo che circolerà fra tutte le chiese in questo sta anche l'originalità della lettera ai Romani però alcuni riferimenti importanti del giudaismo a Roma che vanno tenuti presenti sono che sotto Tiberio già nel 19 d.C. era stata fatta una proibizione delle assemblee pubbliche scusate sotto Tiberio 19 la prima espulsione degli ebrei da Roma poi nel 41 Claudio l'imperatore proibisce le assemblee pubbliche degli ebrei nel 49 l'imperatore Claudio un nuovo enitto con cui decreta l'esclusione degli ebrei da Roma nel 53 muore Claudio e questo editto viene revocato noi abbiamo detto che la lettera è del 55 circa la lettera dai romani molto vicini a questo contesto in alcuni versetti Paolo c'era alcuni indizi sulla composizione sociale della comunità di Roma attestando che i cristiani di Roma vengono dal paganesimo c'è un riferimento al versetto 5 del capitolo 1 1 5 e il seguente ascoltiamo un po' capitolo 1 1 5 e il seguente capitolo 1 versetto 5 per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli per suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti a gloria del suo nome e tra queste siete anche voi chiamati da Gesù Cristo Paolo parla di sé però ovviamente è riferimento ai romani e suscitare la fede in tutte le genti il termine genti ovviamente si riferisce non agli ebrei ma a chi era appunto un gentile che apparteneva alle genti non toccate dalla grazia dell'antica alleanza poi versetti 13 e 15 non voglio che ignoriate fratelli che più volte mi sono proposto di venire fino a voi ma finora ne sono stato impedito per accogliere qualche frutto anche tra voi come tra le altre nazioni sono indebito verso i greci come verso i barbari verso i sapienti come verso gli ignoranti sono quindi pronto per quanto sta in me ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma allora notate nel linguaggio Paolo assimila i romani a altri popoli barbari mi mette un po' sullo stesso piano ad indicare si può presupporre che appunto non fosse una comunità di stampo strettamente giudaico ma più che altro di convertiti dal paganesimo ancora altri riferimenti al versetto al capitolo 11 il versetto 13 a voi genti ecco per cosa dico come apostolo delle genti io faccio onore al mio ministero allora vedeteci questo a voi ci fa presupporre che si riferisca al destinatario della lettera lettera ai romani e siccome assoscia il termine genti ai romani supponiamo che i romani attraffengono alla categoria dei gentili convertiti al cristianesimo poi ancora nel versetto 17 e 18 del capitolo 11 stesso capito se però alcuni rami sono stati tagliati e tu che sei un olivo selvatico sei stato innestato fra loro diventando così partecipe della radice e della linfa dell'olivo non pantarti contro i rami se ti vanti ricordati che non sei tu che porti la radice ma è la radice che porta a te questa è una grande metafora che Paolo utilizza alla fine della lettera molto poco conosciuta però ci fa capire qual è la dinamica dei rapporti fra embraismo e cristianesimo nel pensiero di Paolo Paolo paragona i cristiani di Roma all'olivastro o olivo selvatico diciamo qualcosa del genere l'olivo selvatico non dà i frutti non crea le olive è solo foglie e allora Paolo usa questa metafora l'olivastro cioè voi romani siete stati innestati su un ceppo che è attaccato a una radice che è il popolo di Israele e ricordate che voi portate frutti perché siete innestati su quella pianta quindi non porta a un rinnegamento totale di quello che è il giudaismo ma ne parla del giudeo cristianesimo del cristianesimo in relazione al giudaismo come di un innesto tra la pianta selvatica e il vero olivo per cui poi anche il ramo selvatico in natura assumendo della linfa della pianta originaria arriva a portare frutto senza fare tutta la fatica che ha fatto la pianta originaria c'è una metafora molto potente che la conoscevate che utilizza San Paolo questo paragone all'olivastro ovviamente ci fa supporre che non si tratta di una comunità di ebrei sarebbe del tutto inappropriata come metafora questo era il 17 vero? si poi il capitolo 24 ancora alcuni versetti il 28 poi il 24 scusate il versetto 24 ah sempre dell'11 si se tu infatti dall'olivo selvatico che è di secondo la tua natura sei stato tagliato via e contro natura sei stato innestato sull'olivo buono quanto più essi che sono della medesima natura potranno venire di nuovo innestati sul proprio olivo parla dell'accessità di un auto innesto quasi dell'antico israele perché possa tornare a portare frutto e poi al versetto 15 16 del capitolo 15 15 18 così facciamo prima capitolo 15 15 18 tuttavia su alcuni punti vi ho scritto con un po' di audacia come per ricordarvi quello che già sapete a motivo della grazia che mi è stata data da Dio per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti adempiendo il sacro ministero di pronunciare il Vangelo di Dio perché le genti divengano un'offerta gradita santificata dallo Spirito Santo questo dunque è di ovante in Gesù Cristo nelle cose che riguardano Dio non oserei infatti dire nulla se non di quello che Cristo ha operato per mezzo mio per condurre le genti all'obbedienza con parole e opere con la potenza di segni e di prodigi con la forza dello Spirito così la Gerusalemme è in tutte le direzioni fino all'Illiria ho portato al termine la predicazione del Vangelo di Cristo ma mi sono fatto un punto di onore di non aggiungere il Vangelo dove era già conosciuto al nome di Cristo per non costruire su un fondamento altrui qui dice e qui vediamo altri riferimenti Paolo definisce se stesso apostolo delle genti e ovviamente divolgendosi ai romani si riferisce a persone che lui per primo mette nella categoria genti provenienti dal paganismo in termine gentile nel linguaggio ebraico significa pagano altri popoli e lì è la Uslandia diciamo ecco Macedonia sopra la Macedonia diciamo ecco la Macedonia sta proprio albania con la zona di insomma poi non conosciamo molto sulle dimensioni della comunità di Roma ma dovevano essere abbastanza grandi già che Paolo spera in aiuto cospito una colletta per Gerusalemme quindi non era una comunità piccola se si conosce a fronte a un viaggio del genere per raccogliere quattro spiccioli c'erano sicuramente famiglie e famiglie c'erano numerosi e c'era che essendo pagani anche famiglie facoltose e tanto più che quando l'eroe degli appoggi siamo nel 69 o nel 64 il 64 dovrebbe essere dopo Cristo l'incendio è capace di identificare i cristiani con un'organizzazione religiosa ben identificabile anche numericamente se è una realtà piccola e sfaruta Neroni mai l'avrebbe potuto né identificarla né riconoscerla colpevole dentro una cosa del genere come incendio di Roma quindi vuol dire che è una comunità anche abbastanza importante dal punto di vista numerico ma anche influente e influente si coinvolgeva la personalità si 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 e Paolo si descrive la situazione in cui si trova a scrivere l'avremmo l'avremmo già letto versetti 14 15 scusate capitolo 15 versetto 14 no non l'avremmo letto il 14 fratelli miei sono anch'io convinto per quel che vi riguarda che voi pure siete pieni di bontà colmi di ogni conoscenza e capaci di correggervi in un altro 16 tuttavia su alcuni punti vi ho scritto con un po' di udacia come per ricordarvi e quindi poi pianifica un viaggio a Gerusalemme per consegnare la colletta non so se l'avremmo l'altra volta versetto 28 del capitolo 15 la sono accennato quando avrò fatto questo e avrò consegnato sotto garanzia quello che è stato raccolto partirò per la Spagna passando da voi e lì si riferisce alla colletta e all'idea del viaggio in Spagna ecco qui adesso mi ho avuto una curiosità ovviamente al capitolo 15 come chiamano la Spagna Paolo Spagna è la traduzione io non avrei tradotto Spagna perché da in termine sarà Iberia eh sì però vedete c'è una cosa anche così banale no? è corretto però in un re Spagna quando tu stai producendo un testo che si riferisce a quando la Spagna non c'era un cambiamento un cambiamento un cambiamento d'arzietto 16 era 28 no no 28 sul direttore 15 sì quella era già la chiamavano Spagna Spagna no probabilmente il termine Spagna viene da da quel termine lì 28 vero? ah sì 15 l'ultima parola Spagna vero allora giusto ma sarà una trascrizione tardi scusate sì verrà la codice eh verrà ah cerchiamo sul dizionario che si riferisce alla traduzione di Spagna in greco all'epoca di Cesare non esisteva la biglida che la biodata scrive Spagna come? anche la biodata scrive Spagna sì sì no no ma essendo in greco così è ah nella settanta già c'era il Marco il settore il settore il settore nel d'angelo di Marco compare e due volte nella nella lettere Romani al 24 al 28 è sempre il capitolo 15 di Spagna Spagna sulla data e il luogo di redazione abbiamo detto viene dettata terzo nella casa di Gaglio a Corinto nella primavera del 1956 lo troviamo alcuni riferimenti nel libro degli atti al capitolo 20-22 20-22 ed ecco dunque costretto dallo spirito io varo a Gerusalemme senza sapere ciò che là mi accadrà però questo si riferisce alla allora letto che cerco Romani 16-1 ah scusate il capitolo 16 versetto 1 degli atti si si è Romani Romani 16-1 vi raccomando Febe nostra sorella che è al servizio della chiesa di Cencre altri nomi di donne accoglientano il Signore come si dice ai Santi assistitele in qualunque cosa posso aver bisogno di voi anche se infatti ha corretto molti anche me stesso e come si dice 23 ha corretto molti anche me stesso è una notazione dal punto di vista teologico protetto eh protetto protetto molti allora il 23 sempre nel 16 vi saluta Gaio che ospita me e tutta la comunità vi saluta Erasto tesoriere della città e il fratello quarto quindi si ritiene che stesse a casa di Gaio allora per parlare dell'unità e del processo unitariale il capitolo dall'1 al 15 i capitoli sono abbastanza coesi problemi grossi non nascono al capitolo 16 dove la conclusione secondo alcuni sarebbe una lettera un'altra lettera agli Efesini quello che sta scrivendo che è un po' quello che abbiamo iniziato a leggere adesso adesso proviamo ad entrare dentro il contenuto della lettera ai Romani che abbiamo detto è una istruzione argomentativa dal punto di vista teologico in cui i destinatari sono generici perché intende raggiungere un uditorio di più ampio raggio come abbiamo detto prima una sintesi dell'argomento la troviamo già nel capitolo 1 versetti 16 e 17 l'abbiamo già letto dove appunto viene presentato come tema l'idea di una giustizia umana di fronte a Dio e mentre gli ebrei pensano che questa venga dalla legge di Mosè da Abraham poi Paolo afferma che la giustificazione rivelata con la proclamazione del Vangelo cancella la necessità della salvezza come obbedienza alla legge ma la mette in relazione alla fede cioè la salvezza viene non dall'osservare le leggi e i procetti come era nell'Antico Testamento ma la salvezza viene dall'avere fede in Cristo e mette in dubbio la funzione e per certi versi la validità stessa della legge dal punto di vista ebraico c'è complicizzare la sottilezza tra giustificazione e salvezza perché li stai trasformando i tempi no l'ho messo insieme sono quasi sinonimi no cioè io come mi salvo come arrivo alla risurrezione diciamo dalla morte eterna come mi salvo se sono giusto no che sono stato giustificato ecco ecco le due le due le due le due opzioni no uno è se sono giusto se mi impegno nell'osservare i comandamenti visione giudaico farisante nel pensiero di Paolo siccome nessuno può definirsi giusto l'abbiamo già visto no di fronte alla legge l'unico modo per ottenere la salvezza è affidarsi all'unico che è il salvatore dichiarando per fede che Gesù è il Signore però la lotta non è fra fede e opere perché poi Giacomo non dice il contrario di quello che dice Paolo è un argomento che abbiamo già anche affrontato non ci si sa ma solo esatto non solo per le opere o se le opere ci sono devono essere opere che nascono dalla fede e non avere l'illusione di salvarsi perché si è brava e persone Paolo la direbbe così tradotte in lingua corrente Paolo è un calagiano no ah se lo pensi esamblati se lo vuole opere sarebbe quindi questa è la giustificazione salvezza cioè la giustificazione è il processo la salvezza è l'effetto però l'utilizziamo spesso come come si nomina poi nei capitoli dall'uno al tre questa teoria o dottrina viene sviluppata nel suo significato per i gentili e per gli ebrei e coordina Paolo questi due sistemi antropologici due categorie ebreo non ebreo cioè salvarsi per fede come si applica a queste due categorie e di umanità per gli ebrei e per i non ebrei e poi c'è una terza categoria che Paolo fa emergere è quella semplicemente di umanità cioè cancellata la distinzione tra ebreo e non ebreo l'applicabilità o applicazione della salvezza per fede alla categoria umanità quindi lo fa per passi prima per i gentili poi per gli ebrei poi per l'umanità intera questa salvezza e lo stile che Paolo utilizza in questi primi tre capitoli dal capitolo 1 a 3 è un po' quello della ringa giudiziaria come se fosse un avvocato che fa un discorso in difesa perché poi c'è anche l'immagine che Paolo utilizza sono immagini molto da tribunale da giudizio di tribunale in cui arriva ad un verdetto di colpevolezza di fronte a Dio per l'intero cosmo Paolo direbbe tutto il cosmo tutto l'universo è colpevole di fronte a Dio e affermerà che di fronte alla corte divina al giudizio di Dio gli standard umani di giustizia osservanza della legge e quello che è lo standard di Dio non si incontreranno mai per questo l'obbedienza alla legge come idea che ti possa portare alla salvezza non è sufficiente e adesso entriamo sezione per sezione dentro l'argomento cominceremo dal versetto 18 del capitolo 1 dove Paolo fa un discorso apocalittico di giudizio per chi adora le creature invece del creatore e una sorta di condanno a morte per i pagani quindi è un problema nell'ambito di questa arminga giudiziale quindi la prima sezione è versetto 18 32 infatti l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto Dio stesso lo ha manifestato a loro infatti le sue perfezioni invisibili ossia la sua eterna potenza divinità vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute essi dunque non hanno alcun motivo di scusa perché pur avendo conosciuto Dio non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio ma si sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è ottenebrata mentre si dichiaravano sapienti sono diventati stolti e hanno scambiato la gloria di Dio incorruttibile per un'immagine e una figura di uomo corruttibile di uccelli di quadrupedi e di rettili perciò Dio li ha abbandonati all'impulità secondo i desideri del loro cuore tanto da disonorare fra loro i propri corpi perché hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e servito le creature anziché il creatore che è benedetto nei secoli amè per questo Dio li ha abbandonati a passioni infame infatti le loro femmine hanno cambiato i rapporti naturali in quelli contro natura similmente anche i maschi lasciando il rapporto naturale con la femmina si sono accesi di desiderio gli uni con gli altri commettendo atti ignominiosi maschi con maschi ricevendo così in se stessi la retribuzione dovuta al loro traviamento e poiché non ritennero di dover conoscere Dio adeguatamente Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza depravata ed essi hanno commesso azioni indegne sono colmi di ogni ingiustizia di magità di cupidigia di malizia pieni di invidia di omicidio di lite di frode di malignità diffamatori maldicenti nemici di Dio arroganti superbi presuntuosi ingegnosi del male ribelli ai genitori insensati sleati senza cuore senza misericordia Paolo non c'aveva una grande stima dei greci dei greci pagani perché questa è l'opinione di Paolo sul paganesimo greco però un errore che non dobbiamo fare è strapolare le frasi dal contesto per quanto comunque è molto duro questo testo di Paolo però abbiamo detto del genere letterario è la linga pensate all'avvocato è normale non so se siete stati mai in tribunale comunque lo vedete nei film ma è normale che l'avvocato esageri per difendere la sua la sua tesi e dipinga in toni molto più cubi quello che magari è grigio o molto più chiaro quello che magari è a favore del proprio difeso per cui ecco quei versetti li vanno presi con molta molta cautela c'è parte della cultura cioè è venuto Gesù Cristo però quello che importa è l'argomento che Paolo dice che è questo Dio ha disseminato nel mondo i segni la gloria della sua presenza la gloria è la manifestazione della presenza di Dio gli uomini non l'hanno riconosciuta e hanno finito invece che per adorare Dio che si manifestava in quei segni adorare i segni stessi facendone le loro divinità quadrupe di reti e via dicendo e questo li ha portati alla depravazione e alla perversione e cita quella che era agli occhi di un embreo osservante la depravazione dei greci dai costruimi sessuali alla tante pratiche che via lui sorride in maniera molto molto dettagliata non leggeremo mai per passo durante le messe ovviamente perché è uno di quelli che sono stati tolti fra le letture però ecco per comprenderlo dobbiamo avere ben presente qual è il motivo per cui Paolo si esprime in quei termini con una dura condanna a morte che Paolo invoca da parte di Dio perché lui è l'avvocato che in quel momento dipende dalla sua tesi perché gli è stata data la possibilità di riconoscere il Dio presente ma non l'hanno riconosciuto e lo scopo ovviamente parlando ai pagani qual è di guardare che i segni ci sono arrivate all'adorazione dell'unico vero Dio che è quello che si manifesta in Cristo e riconoscere lo tale per fede ma quindi non c'è anche una componente giudaica fra questi? no qui sta parlando dei gentili diciamo secondo la perché poi sarà la sezione in cui lui parla esattamente tutte quelle cose lì non appartenevano alla cultura alla mentalità ebraica rapporti soprattutto donna uomo a piccoli panni gli include dicendo è stata data la possibilità ma voi non l'avete non ci avete fatto caso no? poi gli annuncia la possibilità esatto va per ondate San Paolo e poi al capitolo 2 versetti dall'1 al 19 secondo grande seconda sezione in cui Paolo accusa tutti coloro che giudicano gli altri e poi si comportano allo stesso modo come persone che diventano oggetto della collera divina c'è una pesante perciò chiunque tu sia o uomo che giudichi non hai alcun motivo di scusa perché mentre giudichi l'altro condanni te stesso tu che giudichi infatti fai le medesime cose eppure noi sappiamo che il giudizio di Dio contro quelli che commettono tali cose è secondo verità tu che giudichi quelli che commettono tali azioni intanto le fai tu stesso pensi forse di sfuggire al giudizio di Dio o disprezzi la ricchezza della sua bontà della sua cremenza e della sua magnanimità senza riconoscere che la bontà di Dio ti spinge alla conversione tu però con il tuo cuore duro e ostinato accumuli collera su di te per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio che renderà a ciascuno secondo le sue opere la vita eterna a coloro che perseveranno nelle opere di bene cercano la gloria e l'onore incorruttibilità il resdegno contro coloro che per ribellione disobbediscono alla verità e obbediscono all'ingiustizia tribolazione e angoscia su ogni uomo che opera il male sul giudeo prima come sul greco gloria invece non è pace per chi opera il bene per il giudeo prima come per il greco Dio infatti non ha preferenze di persone come? c'è una coppia invece che preferenza ha una traduzione tu che traduzione c'avevi? no no preferenza io non ho qualcuno c'ha altre traduzioni invece di preferenza 16 il versetto 16 capito no è il 1 versetto 11 due infatti non ha differenza le persone scusa io sono i miei infatti parzialità non fa differenze oppure non c'è parzialità in Dio però il senso è quello Dio è imparziale che con modo un fenomeno vuol dire che è giusto siamo arrivati al 19 tutti quelli che hanno peccato senza la legge senza la legge periranno quelli che invece hanno peccato sotto la legge con la legge saranno giudicati infatti non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio ma quelli che mettono in pratica la legge saranno giustificati quando i pagani che non hanno la legge per natura agiscono secondo la legge essi pur non avendo la legge sono legge a se stessi essi dimostrano che quanto la legge si esige è scritta nei loro cuori come risulta dalla testimonianza della loro coscienza e dai loro stessi ragionamenti che ora li accusano ora li difendono così avverrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini secondo il mio Vangelo per mezzo di Cristo Gesù ma se tu ti chiami giudeo e ti riposi sicuro sulla legge e metti il tuo vanto in Dio ne conosci la volontà e istruito dalla legge sai discernere ciò che è meglio e sei convinto di essere guida dei ciechi luce di coloro che sono nelle tenebre qui finisce il 19 educare educatore degli ignoranti maestro dei semplici perché nella legge possiedi l'espressione della conoscenza e della verità ebbene come mai tu che insegni agli altri non insegni a te stesso tu che predici la domanda che comunque la parte importante era fino al 19 e vedete quanto è moderno come vuol dire no Paolo anche se poi la chiesa se ne è dimenticata a lungo di questa lezione sul fatto che la salvezza non viene dall'osservanza semplice e esteriore delle leggi rivelate ma c'è una legge che è scritta nel cuore la legge naturale ed è quella che per chi non conosce la legge rivelata diventa la fonte dell'obbedienza ciò a cui obbedire per in qualche modo avvicinarsi alla volontà e desiderio di Dio quindi c'è poi l'estensione di questa prospettiva un'affermazione antropologica dell'etica che deriva appunto da un giudizio sul comportamento che sta nel mettersi di fronte alla propria coscienza oppure di fronte a Dio a seconda della propria provenienza o comprensione religiosa e qui addirittura Paolo sviluppa un concetto di legge post-ebraica che vale per tutto il genere umano che è appunto l'obbedienza alla legge iscritta nel cuore la legge della coscienza in Gaudi e Mensperse nel capitolo 16 riprenderà proprio dopo due mili anni questo questo grande principio che il primo luogo in cui Dio si rivela ciascuno di noi è nella coscienza e notate che il termine di riferimento è sempre la rivelazione Dio ha manifestato nel mondo i segni della sua gloria Dio manifesta nella coscienza dell'uomo la sua volontà come tu sei chiamato a riconoscere dai segni della gloria l'unico vero Dio così devi riconoscere quello che ti si manifesta nella tua coscienza la voce l'unica voce dell'unico vero Dio che è quella da seguire poi dal 17 al 24 Paolo si rivolge ad un ebreo ideale a un fariseo dimostra l'ipocrisia di quanto accusato precedentemente di Africa al 24 allora non mi va a dire al 21 ebbene come mai tu che insegni agli altri non insegni a te stesso tu che predichi di non rubare rubi tu che dici di non commettere adulterio commetti adulterio tu che detesti gli idoli ne derubi i tempi tu che ti vanti della legge offendi Dio trasgredendo la legge infatti sta scritto il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra fra le genti cattivo esempio poi dal 25 al 29 Paolo chiarisce che nella struttura del legalismo legato all'antica alleanza il compimento della legge si fonda sul segno dell'alleanza che era la circoncisione i due pilastri hanno la circoncisione e osservanza dei comandamenti precedenti e leggi con quelli ci si salvava e Paolo stacca il concetto di circoncisione da quello della legge del rituale ebraico e afferma la possibilità di una circoncisione che non sia esteriore ma interiore quasi di una circoncisione spirituale etica che è appunto la circoncisione che vale per i pagani e che l'appartenenza all'alleanza non è più limitata semplicemente agli ebrei e al segno esteriore della circoncisione ma in questa nuova alleanza si entra con questa circoncisione interiore che era il primo pilastro e il ragionamento che fa Paolo è proprio rivoluzionario perché rappresenta il trasferimento di questo primo pilastro dell'antica alleanza ai non ebrei che era una cosa che era in pensamento accanto alle comunità ebraiche c'erano dei gruppi di simpatizzanti ebrei che magari partecipavano all'attività della sinagoga venivano considerati da un po' a parte perché non erano circoncisi Paolo allarga le maglie dell'alleanza e dichiara che con la circoncisione interiore spirituale che si entra in questa alleanza non semplicemente con un gesto esteriore poi lo ottenerà anche dal punto di vista scritturistico farà un raglamento molto complesso e conclude con un'obiezione ma allora alla luce di tutto ciò le leggi dell'antica alleanza hanno ancora un valore in ordine alla salvezza oppure no? Ecco quindi ascoltiamo questi quattro versetti dal 25 al 29 Allora Certo la circoncisione è utile se osservi la legge ma se trasgredisci la legge con la tua circoncisione sei un non circonciso se dunque chi non è circonciso serva le prescrizioni della legge la sua incirconcisione non sarà forse considerata come circoncisione e così chi non è circonciso fisicamente ma osserva la legge giudicherà a te che nonostante la legge la lettera della legge e la circoncisione sei trasgressore della legge giudeo infatti non è chi appare tale all'esterno e la circoncisione non è quella visibile nella carne ma giudeo è colui che lo è interiormente e la circoncisione è quella del cuore nello spirito non nella lettera la sua lode non viene dagli uomini ma da Dio qui è un grande avvocato non è San Paolo però qui sembra che confone il giudeo con il cristiano perché sta dicendo il giudeo chi ha una circoncisione interior cioè nel senso il giudeo è chi entra nell'alleanza cioè nel popolo di Dio come si entra chiama il popolo di Dio ancora con il popolo certo lui l'ebreo non fa distinzione no? cioè l'alleanza è sempre la stessa antica e nuova nella sua prospettiva questo è un altro grande tema della lettera romana però il ragionamento è un ragionamento sillogistico no? nell'alleanza si entra con la circoncisione e l'osservanza dei comandamenti però se uno è circonciso ma non osserva i comandamenti non è nell'alleanza è come se non fosse del popolo allora per lo stesso principio ma invertito chi osserva i comandamenti ma non è circonciso è nell'alleanza al pari di chi è circonciso per cui Paola Diva allora la circoncisione non è un fatto esteriore ma è un fatto del cuore cioè del sentirsi parte di questa opera di salvezza da parte di Dio questo è proprio un sillogismo sillogismo probatorio è proprio un termine giuridico nelle sentenze di avvocati e poi al capitolo 3 nei versetti 1-8 Paolo risponderà alla domanda che ci siamo posti prima ma allora le leggi dell'antica alleanza hanno un valore in ordine alla salvezza introduce l'argomento in versetti 1-8 e poi andrà avanti lo approfondirà in due capitoli interni che sono capitoli 9-11 però poi ci arriveremo Paolo afferma che il vantaggio degli ebrei sta nella fiducia all'affinamento alle parole di Dio però ascoltiamo 3-1-8 che cosa dunque ha in più il giudeo e qual è l'utilità della circoncisione grande sotto ogni aspetto anzitutto perché loro sono state affidate le parole di Dio che dunque se alcuni furono infedeli la loro infedeltà annulerà forse la fedeltà a Dio impossibile sia chiaro invece che Dio è veritiero mentre ogni uomo è mentitore come sta scritto affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e vinca quando sei giudicato se però la nostra ingiustizia mette in risalto la giustizia di Dio che diremo Dio è forse ingiusto quando riversa su di noi la sua ira sto parlando della maniera umana impossibile altrimenti come potrà Dio giudicare il mondo ma se la verità di Dio abbondone la mia menzogna risplende di più per la sua gloria perché anch'io sono giudicato ancora come peccatore e non come e non è come alcuni ci fanno dire facciamo il male perché ne venga il bene essi ci caluniano ed è giusto che siano condannati un po' un po' complesso però bisogna leggerlo anche con un po' di attenzione un testo come questo però l'idea di fondo è questa allora è vero che esistono i legi e noi veniamo meno alla fedeltà a Dio però quando anche noi venissimo meno Dio non verrà mai meno alla sua fedeltà a Israele anche se Israele non obbedisce alle sue leggi e quindi l'infedeltà a Israele non compromette il piano di salvezza di Dio né tantomeno la condanna che Dio farà di Israele costituisce un'ingiustizia in questo senso poi dal versetto 9 al 20 Paolo presenterà la conclusione della sua accusa e proprio nel versetto 9 porta il verdetto di colpevolezza più dei e che ci sono sotto il potere del peccato non c'è differenza scusa il versetto 7 nel attimo mi sembra un po' aspetta che lo preso pure io 2-7 vero? il 7 ma se la verità di Dio abbondone la mia menzogna risprende di più per la sua gloria perché anch'io sono giudicato ancora ancora come peccatore è la domanda no? c'è il punto interrogativo? se la giustizia di Dio è abbondata nella mia menzogna cioè nella mia incapacità di adempiere alla legge perché quando io non la adempio sono un menzogna la menzogna deve infedeltare risprende di più per la sua gloria perché anch'io sono giudicato ancora come peccatore nel senso perché Dio mi condanna no? perché ancora vengo giudicato come peccatore poi lo spiegherà è quello che vi dicevo prima che sebbene noi veniamo meno alla fedeltà e all'alleanza Dio non viene meno e questa questo mantenere fede di Dio al suo principio è ciò che determina la condanna che poi arriverà che Paolo esprimerà al versetto 9 giù di lì no? leggiamo anche dopo l'8 perché lì le domande sono tre no? tre domande retoriche leggiamole insieme così comprendiamo bene anche l'8 e non è come alcuni ci fanno dire facciamo il male perché ne venga il bene essi ci caluniano ed è giusto che siano condannati che dunque questa è la domanda però la domanda è pure questa no? non c'è la domanda non c'è quello che dice dove? l'hanno tolto nella produzione della 6 è una domanda quella e non è come alcuni ci fanno dire due punti facciamo il male perché ne venga il bene essi ci caluniano ed è giusto che siano condannati non c'è non c'è un interrogativo nel testo greco è facciamo il male perché ci venga il bene così e che sta succedendo? a me c'è il punto questo esclamativo perché è una domanda retorica è ovvio però esclamativo va bene ma niente no capito ma allora facciamo il male perché ne venga un bene oppure ma allora facciamo il male perché ne venga un bene nel senso è lo stesso la domanda la risposta è ovvia nel tuo testo adesso io non c'ho l'estellata però questo è solito è sul greco è certo tutto il interrogativo perché considerando la domanda però ecco dopo la retoricità della domanda senza esclamativo il interrogativo non può perdersi è un'affermazione io ho detto su tante cose mentre sono stati molto attenti magari sui Vangeli poi anche lì sarebbe molto raro una virgoletta non so se c'ha un significato sì già la virgoletta un po' c'è un po' più villola e poi e sulle lettere però è importante c'è questo perché ricambia proprio lo sostanza perché volevo fare un bel lauforo sulle traduzioni perché il primo modo di fare la lezione divina è quello se non c'è un commentario già guardando tre traduzioni c'è il commento pronto ecco il 9 eh sì perché poi continua a me le domande che dunque siamo forse noi superiori no infatti abbiamo già formulato l'accusa che i giudei e i greci tutti sono sotto il dominio del peccato come sta scritto allora il risultato qual è sia i giudei che i greci pur partendo da punti di vista diversi sono infedeli a Dio vuoi per l'osservanza esteriore alla legge vuoi per l'osservanza all'etame della coscienza richiamando quello però tutti siamo comunque sotto il peccato hanno peccato sia i greci che i giudei né più né meno sebbene in contesti diversi allora questo stato di peccato Paolo dirà necessita di una soluzione perché non si può rimanere il peccato per provare la morte e la soluzione Paolo dirà è una sola la fede perché l'osservanza della legge che sia quella rivelata o che sia quella della coscienza risulterà sempre imperfetta da parte dell'uomo perché non è che seguire la coscienza è più facile che seguire la legge rivelata in fin dei conti apparentemente sì ma allora vediamo ma adesso l'avamo letto tanta ora c'è la legge la legge quelli che seguono io ho una citazione dal salmo 14 versetti 1-7 e poi salmo 53 e lì potrebbe essere un'altra cosa interessante come non c'è nessun giusto nemmeno uno non c'è chi comprenda non c'è nessuno che cerchi Dio tutti hanno smarrito la via insieme si sono corrotti non c'è chi compie il bene non ce n'è neppure uno la loro e cosa il salmo la loro gola è un sepolcro spalancato ramavano inganni con la loro lingua veleno di serpenti e sotto le loro labbra la loro bocca è piena di meredizione e di amarezza i loro piedi corono a versare sangue rovina e sciagura è sul loro cammino e la via della pace non l'hanno conosciuta non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi ora noi sappiamo che quanto la legge dice lo dice per quelli che sono sotto la legge di modo che ogni bocca sia chiusa e il mondo intero sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio infatti in base alle opere della legge nessun vivente sarà giustificato davanti a Dio perché per mezzo della legge sia conoscenza del peccato ora invece indipendentemente dalla legge si è manifestata la giustizia di Dio testimoniata dalla legge e dai profeti giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo per tutti quelli che credono qui sei dopo il 20 però qui siamo al 22 aspetta aspetta allora la citazione importante implicita in quello di prima è Queelet 720 che prendiamo forse la domanda tua era quella sì grazie ce l'avete scritto voi sulle Bibbie cioè fai infermine tonino che c'è scritto tonino che c'è scritto sui versetti i passi paralleli perché quella 720 dice non c'è infatti sulla terra un uomo così giusto che faccia solo il bene e non pecchi questo è quei sali 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 però poeri 720 lì c'ha scritto però tu hai lingua corretta vero? strano che non lo riporta che produzione è scritto sotto magari dopo qualche prima Giovanni 11 delle cose delle note di sotto c'è scritto la cosa è riferito al versetto allora come niente però il più cioè il versetto più questo più è proprio lo stesso contenuto quanto non c'è infatti sulla terra un uomo così giusto che faccia solo il bene e non pecchi allora vedete prima c'era la distinzione giudeo greco alla fine la distinzione viene annullata tutti siamo peccatori cioè tutto il cosmo tutta l'umanità quindi vengono superate le distinzioni tutti siamo accomunati dallo stesso peccato e questo stesso peccato necessita un'unica e stessa salvezza che non potrà essere dalle opere perché non c'è sulla terra un uomo solo che possa rendersi giusto fronte alla legge ma insieme a dalle opere dalla fede che è il grande tema della lettera ai romani e poi dal 21 al 26 Paolo riconosce un cambio di atteggiamento da parte di Dio con la venuta di Cristo e lo fa in un testo che è molto complesso in cui Paolo arriverà a dire che Dio giustificherà quelle persone che credono in Cristo come se c'è un mare dei naufraghi Dio non salverà quelli che nuotano bene che osservano la legge ma salverà quelli che s'aggrappano alla scialuppa di salvataggio o al salvagente che è l'immagine più potente Gesù è il salvagente nel naufragio dell'umanità quindi la salvezza non verrà dal proprio saper nuotare osservanza della legge che sia naturale o rivelata ma dalla propria pistis dalla fede in Cristo questa è molto una tua immagine cioè Paolo non lo sa quella del naufragio non lo sa da io quindi in teoria il fare il bene secondo la coscienza comunque non assicura la salvezza perché ci vuole la fede esatto o Paolo poi dirà nella seconda parte della lettera c'ha senso se nasce dalla fede cioè che io ho fede e quindi nascono le opere ma se io poco poco ho l'illusione che mi conquisto mi procuro la salvezza attraverso le opere sono fuori strada e se notate bene è la logica del figlio il prodigo o meglio della parola del padre misericordioso cioè il figlio che sta a casa vive l'intera vita nella illusione noi diremmo che facendo il bravo ragazzo e evitandole chiedere servendo il padre ma non amandolo notate lui si conquisti coi propri sforzi la salvezza quando però vede che la salvezza viene offerta indipendentemente dai meriti a chi ha avuto fiducia in lui quella fede no non possiamo neanche chiamarla fede quel castello si sgretola si però scusa non è che la salvezza a San Paolo però ci mette in difficoltà a tutti questa da tutto il visto allora se io non conosco Cristo e conosco e provo la coscienza e rispetto la verità che mi dice la coscienza cioè la medici faccio bene ma non conosco Cristo senza tua colpa no oggi la chiesa ti direbbe no forse San Paolo era un po' più felice non so se San Paolo sarebbe stato d'accordo però è ovvio nel suo pensiero probabilmente no perché abbiamo visto nella sua ottica tutto il mondo è un atrago nel peccato ma questo lo sai perché hai conosciuto se non l'hai conosciuto noi oggi diciamo che la misericordia di Dio se uno non c'ha colpa nell'aver aderito va di là nella lesione di Gesù quello che ti lo ha fatto quello che ti lo ha fatto quello che ti lo ha fatto di meccanica di strutti più chiaro la prossima volta riprenderemo da qui che ti lo ha fatto che ti lo ha fatto non c'è se non c'è se non c'è